Allora, questo è il nostro progetto sul Molise. Allora, per iniziare c'è un piccolo labirinto. Bisogna arrivare al puntino di so. Wow, ce l'ho fatta! E ora che facciamo? Qual è il piatto più comune del Molise? Pizze minestra o sushi? Ovviamente pizza e minestra che è un piatto tipico. Il sushi non è un piatto tipico. Questo è un piatto di pizza e minestra. Ora, qual è il piatto più gustato, che vuol dire più mangiato nel Molise? Cavatelli e costine o BBQ? Ovviamente cavatelli e costine. Eccoli qua, cavatelli e costine. Bravo, ora conosci il Molise. Stop!